Di spiegare alla città il progetto di bonifica che stanno per approvare. Se da una parte vede le discariche a mare risolvere il problema delle discariche a mare, invece con il POB fase 2 non risolve minimamente il problema dei siti industriali. Parliamo di circa 80 etteri per capirci tutta l'area che è a ridosso della strada 106 e di questi 50 etteri sono del sito di Pertusola. Bene, con questa bonifica i cittadini di Crotone devono sapere che tutta l'area sarà tombata con il capping, gran parte dei veleni resteranno interrati e l'area non sarà riutilizzata. Il sindaco deve andare dai suoi concittadini e deve dire queste cose. Deve dire perché a Roma Sindial ha spedito e spediva 12 persone tra consulenti, tecnici, manager e dirigenti e consulenti e il comune di Crotone mandava due tecnici in videoconferenza, quello della provincia era in videoconferenza. Sindial che fa? Accantona nel vecchio progetto la bonifica dei suoli che li accantona, per capirci mette da parte la fitorimediazione, la rimediazione elettrocinetica, l'attenuazione naturale e si concentra sulla messa in sicurezza della falda. Sindial scopre, quindi scopriamo a distanza di 12 anni, che anche i suoli profondi contaminati costituiscono un rischio per la diffusione dei veleni. Sindial dove interviene? Interviene solo su piccolissime aree dove è contaminato il suolo profondo e questa contaminazione può essere a contatto con la diffusione attraverso la falda idrica. Beh, sono andato a fare i calcoli. Con questo principio Sindial innanzitutto lascia tutta la zona dell'area ex impianti, i cui suoli profondi sono contaminati da caddemio, da una sostanza cancerogena. Pericolosissima! Quella che stanno per approvare non sarà nemmeno una buona messa in sicurezza permanente. Ricordatevi questo numero, 360.000 metri cubi sono i suoli che dovrebbe trattare Sindial con lo stesso criterio che ha utilizzato nel POB fase 2 e non lo fa. Tra l'altro, Ispre e Arpaca, l'avevano segnalato nelle conferenze dei servizi la necessità di intervenire anche sui suoli e non lo fanno. Questo è. Sindial gli hanno approvato un progetto così come era stato presentato, senza nessuna resistenza.